Siamo con Diego Coloma Vidal del San Bernardo, oggi una brutta sconfitta su un campo sicuramente non facile contro un avversario forte, nel primo tempo grazie anche al tuo gol siete andati in vantaggio anche sul risultato di 2-1, poi vi siete fatti rimontare e avete perso male forse una partita che non avete giocato neanche così male come può far pensare il risultato Dicci te cosa non ha funzionato nel secondo tempo e il tuo parere sulla partita Una bella partita, primo tempo abbiamo giocato secondo me ai nostri livelli, secondo tempo con la stanchezza si è fatta sentire, l'altra squadra è uscita fuori che è una bella squadra È normale che a inizio campionato sicuramente non sono mai facili le partite, forse le squadre non sono neanche nelle migliori condizioni, volevo chiedere invece come stai tu e Quale può essere il tuo obiettivo per questo campionato? Fisicamente è bene, potrei stare meglio, posso vacanze potrebbe stare meglio, però bene L'obiettivo è lottare fino alla fine, riprovare a tornare alla categoria dell'anno scorso sarebbe il nostro obiettivo finale L'hai detto tu, avete perso la categoria, volete riconquistarla Allora ti chiedo se la punta titolare è un punto di riferimento importante per la tua squadra Qual è il vostro obiettivo per quest'anno? L'obiettivo, come ti ho detto prima, è provare fino alla fine a lottare e tornare dove secondo me ci compete Il tempo di prendere un attimo in un ritmo tutta la squadra ci dobbiamo soddisfazione Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo per il campionato Grazie Grazie mille, grazie mille, in bocca al lupo per il campionato